L'arresto risale a quattro giorni fa e a fare irruzione nel centro che si occupa dei bambini di strada un commando delle forze governative che senza un motivo ha portato via il provinciale, alcuni sacerdoti e diaconi, oltre ad alcuni laici. In tutto 17 persone presenti nella casa provinciale dei Salesiani a Gottera, poco distante da Addis Abeba. Non è la prima volta che le case religiose in Etiopia sono fatte oggetto di perquisizioni ed incursioni, specialmente negli ultimi mesi a causa del clima di generale incertezza per la grave crisi umanitaria in cui si dibatte l'intera area del corno d'Africa e specialmente l'Etiopia, dove è in atto un sanguinoso conflitto da oltre un anno. I Salesiani che sono presenti nella zona dal 1975 sono stimati dalla popolazione per l'impegno al servizio dei poveri e dei bambini, ai quali garantiscono un futuro togliendoli dalla strada. Proprio domenica scorsa Papa Francesco All'Angelus ha lanciato un appello per la pace nell'area. Invito al dialogo oggi rilanciato dalla missione salesiana locale, che in un messaggio inviato all'Agenzia Fides chiede il rilascio dei confratelli e del personale laico, mentre nella casa generalizia prevale la linea del silenzio.